Buongiorno ragazzi, questa è la lezione di poesia che riguarda Saffo e la poesia pagina 106 a me pare uguale agli dei. Che cosa faremo? Faremo un esempio di analisi poetica e soprattutto faremo un esempio anche di parafrasi. Prima di andare a leggere una qualunque poesia è necessario avere alcuni elementi che riguardano l'autore, in questo caso l'autrice, perché solo grazie all'analisi della vita dell'autore noi possiamo comprendere appieno il senso della poesia. Quindi prima di andare ad analizzare la poesia andiamo a vedere chi era Saffo. Già ve ne ho parlato lo scorso anno quindi non mi soffermerò tanto perché se andate a riprendere gli appunti che lo scorso anno avevamo dettato a proposito della poesia lirica li ritroverete sicuramente. Ci sono poche notizie a proposito di Saffo. Nasce alla fine del VII secolo nell'isola di Lesbo che è un'isola nell'Asia minore di possedimento greco. Greca fonda presso l'isola un tiaso femminile. Che cos'è il tiaso? Il corrispondente del simposio maschile, ovvero una congregazione di donne, una congregazione riservata alle donne in cui un insegnante, in questo caso Saffo, aveva il compito di istruire le donne sulla raffinatezza, sulla cultura, su come essere mogli nell'ambito aristocratico tra il VII e il VI secolo a.C. Non ci spaventiamo, dato che ne abbiamo già parlato lo scorso anno, della tranquillità con cui i greci parlano e scrivono dell'amore omosessuale. Anche Saffo, avendo un tiaso, quindi un circolo soltanto femminile, spessissimo dedica delle poesie alle ragazze che erano sue allieve di cui spesso si innamora. In particolare la poesia che noi andremo a leggere oggi parte dall'idea che Saffo stia osservando una scena, cioè la scena di una sua discepola, una ragazza di cui probabilmente lei era innamorata, che chiacchiera con quello che sarà probabilmente il suo promesso sposo. Che cosa succede? L'inizio di questa poesia è un inizio abbastanza tranquillo, quasi idilliaco, sereno, cioè Saffo che sta osservando la scena di una ragazza che chiacchiera con il suo futuro sposo. Subito dopo però viene colta dalla gelosia, tant'è che spesso si parla di questa poesia come l'ode della gelosia, cioè Saffo inizia a essere gelosa del dialogo che questa ragazza può avere con l'uomo. E in tutta la seconda parte del componimento abbiamo gli effetti fisici che provoca l'amore sull'essere umano, che è un po' la tematica amorosa dell'antica Grecia. In particolare la seconda parte della poesia è basata sulla corrispondenza tra amore e morte. Andiamo a leggerla. A me pare uguale agli dèi, chi a te è vicino, così dolce, suono, ascolta mentre tu parli e ridi amorosamente. Subito a me il cuore si agita nel petto, solo che appena ti veda e la voce si perde sulla lingua inerte. Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle e o buio negli occhi e il rombo del sangue nelle orecchie. E tutte in sudore tremante come erba patita scoloro e morte non pare lontana, a me rapita di mente. Bene, andiamo ad analizzare la poesia perché non possiamo fare l'analisi retorica, stilistica, perché è una poesia in traduzione. Saffo scrive in greco, Saffo è una poetessa greca, quindi noi non potremmo andare a fare, come dire, la suddivisione in sillabe, andare a vedere qual è il componimento, è un'ode questa, un'ode antica, ma non vi chiedo di fare naturalmente la suddivisione in sillabe, riscontrare rime, eccetera, perché è una traduzione. Andiamo a fare invece l'analisi per quanto riguarda la parafrasi e le figure retoriche. Come si apre la poesia? A me, chi è questa a me? A me, Saffo, ok? Sta parlando Saffo e dice A me sembra simile agli dèi. Chi? Chi a te vicino così dolce suono, ascolta mentre tu parli. Chi è questo personaggio? L'uomo che sarà il marito della giovane, che Saffo sta osservando da lontano e che è una sua, della giovane, che sta osservando da lontano e che è una sua allieva. Quindi, mi sembra uguale agli dèi quell'uomo che ti sta vicino e che ascolta il suono così dolce della tua voce mentre tu parli e ridi amorosamente. Quindi, questa è la prima parte della poesia. È una parte abbastanza serena, Saffo osserva e dice Mi sembra veramente fortunato quanto un dio chi riesce a starti vicino e a godere della bellezza della tua voce. Dal verso numero 5 inizia però la descrizione degli effetti fisici che la gelosia scaturita da questo incontro suscita nella poetessa. Cosa succede? Subito a me, il cuore si agita nel petto solo che appena ti veda. Quindi, primo, primo elemento, il cuore si agita nel petto appena ti vedo. Primo effetto fisico, tachicardia. Ok? Secondo, la voce si perde sulla lingua inerte, non riesce più a parlare, la voce le si stringe nella gola. Perché? Perché questa gelosia non permette che lei possa esprimere quello che sta provando. Poi, numero 3. Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle. Quindi, la pelle, una sensazione di che cosa succede alla sua pelle, inizia a sentire caldo. Ok? Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, inizia a percepire, dice Saffo, una sorta di calore sulla pelle. Poi, 4. Gli occhi, che cosa succede? O buio negli occhi, le si appanna la vista. Poi, 5. Il rombo del sangue nelle orecchie, non riesce più a sentire nulla a causa del sangue che scorre nelle orecchie. E' tutta in sudore tremante come erba patita scoloro. 6. Scoloro. Perdo colore, impallidisco, tutta piena di sudore tremante come erba patita sofferente. 6. Scoloro. Perdo di colore, impallidisco. Questi versi, e morte non pare lontana, a me è rapita di mente. A me è rapita di mente, incapace di ragionare, la morte non sembra lontana. Quindi, possiamo dire che tre sono i momenti della poesia. Il primo, che va dal verso 1 al verso 4, che è il primo momento, che è il momento, diciamo così, oggettivo, in cui Saffo osserva il dialogo. Secondo momento, quello più importante, che va dal verso 5 fino al verso 12, in cui vengono descritti gli effetti fisici dell'amore su Saffo. E' il terzo momento, il momento finale, in cui avviene la metafora tra amore e morte. Perché l'amore viene paragonato alla morte? E' anche questo un topos letterario, tantissimi poeti parleranno di questa metafora, addirittura Leopardi scriverà una poesia che si intitolerà proprio Amore e morte. Perché l'amore è in grado di portarti a livelli di, così, piacere, benessere altissimi, ma è capace, quando ti viene sottratto, di condurti persino a sperimentare in vita la morte a causa del dolore che si può provare. Ok? Quindi, questo è quello che bisogna fare quando io vi chiedo di fare la parafrasi e analizzare una poesia che è una poesia tradotta. Non potremo, ripeto, fare l'analisi della suddivisione in sillabe, come si dice, rime, eccetera, ma potremo fare la parafrasi, cioè traslitterare la poesia in un linguaggio più corrente e andare a vedere quali sono i momenti della poesia. Va bene? Bene, fate gli esercizi, mi raccomando, studiate. Arrivederci a tutti!